Un arrivo nella neve per Raffaele Imparato, un nuovo giocatore del tramo calcio, difensore esterno. Beh, può darsi che questa neve porti bene? Me lo auguro sinceramente. Comunque sono molto felice di aver finalizzato con il teramo. Da oggi inizia una nuova avventura, sperando che anche con la neve sia fortunata. Tu già conosci diversi compagni di squadra? Sì, conosco Carcali e Sialtobelli perché l'anno scorso abbiamo giocato insieme, conosco Peterman e poi anche qualche altro elemento che conosco per averci giocato qualche volta contro, quindi per esperienza di campo. Per le new entry questo non è un momento molto semplice? Beh, sì, è sempre particolare il mercato di gennaio, però già stamattina quando sono stato in sede si respirava un'area di entusiasmo e questo fa bene. Sicuramente la classifica è quella che è, ma in questo momento i programmi servono a poco. Bisogna lavorare, impegnarsi e poi io credo sempre che il lavoro alla fine paghi. Il presidente Campitelli e Scacchioli hanno più volte ammesso di avere un po' di timore di un'eventuale retrocessione. Cosa senti di dire? Quella parola non voglio nemmeno pronunciare. Ripeto, il mio credo è stato sempre quello del lavoro, dell'impegno, della serietà e della concentrazione. Credo che ci siano tutti i presupposti per affrontare questo giro di ritorno al meglio ed evitare qualsiasi spiacevole situazione, insomma. Ma questo lo faremo tutti insieme, non saranno sicuramente solamente i nuovi arrivi a giocare per il Teramo. C'è un gruppo, c'è una società che è forte e organizzata, c'è un allenatore e tutti insieme dovremo rimare verso lo stesso obiettivo. Uno dei tuoi primi pensieri è stato rivolto ai tifosi del Teramo? Sì, è normale che fa piacere essere qui. Quando ci ho giocato contro mi hanno sempre fatto un'ottima impressione. Ripeto, sono felice e quindi non vedo l'ora di iniziare.